Mr. Olimpia 2023 Classic Physique Prejudging C'è appena stato e partiamo da questa foto fantastica dove vediamo che Urs non ha la più pallida idea di che cosa debba fare Tutti fanno la loro favorite classic pose, una più bella dell'altra Brion la sta aprendo ma lui Urs dice e mo che fa? Adesso che faccio? Fantastico, stavo morendo da ridere così come poi vediamo che questa foto già può far chiudere il video perché vince Chris Saluti! No vabbè andiamo a vedere le varie pose, allora è stato uno show a due perché Ramondino purtroppo ha sovvertito un pochettino i miei pronostici Perché Urs non sapeva che aspettare e allora Ramon è approfittato con gli occhi chiusi qui Ramon Grande quadricipite ma vediamo la sfida di questi due fenomeni Partiamo da qui, front double by se più intanto migliorato clamorosamente il bicipite sinistro di Chris Ma mi sento di dire entrambi i bicipiti di Chris La sua apertura, la sua forma Chris è il Classic Physique I belong to Classic, I belong here, l'ha detto nella conferenza stampa ed è così Ramon che probabilmente in adolescenza si è masturbato un po' troppo con questo braccio destro Perché l'avambraccio destro è un organo a sé rispetto al sinistro, rispetto a tutto il corpo Quindi qui forse l'unico punto dove Ramon batte Chris Ah, carissimi amici partiamo Vuol dire che ho sentito tantissimi esperti dire Ah no ma Ramon è superiore a Chris nelle front poses Eh Ramon is pushing Chris Sì sicuramente Ramon ha fatto improvement, miglioramenti incredibili Sicuramente passi avanti, va bene Ma se l'anno scorso è stato un papà che porta a spasso il bambino Quest'anno è il papà che porta a spasso il ragazzotto Che insomma sta crescendo bene ma c'è ancora una disparità incredibile Vogliamo dare i punti come nell'MMA e allora era un 10 a 6 adesso un 10 a 8 Non credo di più Ma vediamo posa per posa se magari vengo smentito Perché intanto il muscolo più importante è Polpacci, meglio Ramon Poi però andiamo già ai quadricipiti dove per me c'è il giorno e la notte Adduttori anche Come fa la posa Ramon è bellissimo ma come posa Chris poi dal vivo O meglio guardando lo stream live è un'altra cosa Quindi grandi, grandi miglioramenti per quanto riguarda i quadricipiti di Ramon Niente da dire, davvero miglioramenti incredibili Perché le gambe prima era un 10 a 0 adesso è anche qua 10 a 5, 10 a 6 Vita strettissima poi di Ramon, molto bello, si apre in maniera fantastica Ma come si apre papà Chris a sinistra Dai è ridicolo metterli a confronto Per me è quasi ridicolo Pensare che qualcuno ha detto Ramon è meglio sul front Ma dove? Di cosa stiamo parlando? Che show hai visto? Cosa stai guardando? Hai visto le foto sbagliate? Non lo so Cioè davvero forse oggi abbiamo anticipato un po' l'aperitivo del sabato Può essere quello Perché io confronto non ne vedo Cioè mi sembra palese che Chris porti a casa questa posa Così come porti a casa lo show Ma andiamo avanti Allora Chest Allora se devo fare una piccola critica a Chris Nel 2022 mi ricordo che questi dettagli Erano che sono ancora allucinanti eh signori Per l'amor del cielo Però era ancora un po' più striato Poi se guardiamo la definizione di queste linee fantastiche del quadricipite Del vasto laterale in particolare È ancora inarrivabile Sì ok i polpacci erano meglio quelli di Dino Ma guardiamo qui Le striature Le veramente venature e pezzature incredibili E poi avendo recuperato comunque a pieno Dal problema al bicipite sinistro Quanto è gonfio questo braccio Ma che separazione c'è tra il deltoide e il bicipite E ma questa fetta di manzo che è il capolaterale del tricipite Signori impressionante Dai dai guardiamo di qua Ma non è comparabile Non è paragonabile Bellissimo Grande deltoide Bello Ma guarda anche il petto Il gran pettorale Guarda qui Una, due, tre Non ce la fai a contarle tutte le righine? Cioè io non lo so Mi rifiuterei anche di andare avanti Perché benissimo Ramon Non anche nel lower body Ma sentire Chris è in pericolo Ma di cosa? Di cosa? I perdere i baffi? Bellissimo back double bicep Sicuramente bellissimo back double bicep di Ramondino Sono anche i bicipiti piatti Che si notano poi anche nel back Striatura a destra e a sinistra Un po' come Adi Anche Adi ce l'aveva ieri sera E sì Grandi ischi crurali qui dietro Molto tirati e definiti Ma qui Chris Ha un bambino Cioè è incinto Muscolo in più Che cos'è questa roba qua? E qui in questa particolare foto Non tiratissimo Nel dipartimento dei glutei Con questa vena meravigliosa Però ragazzi anche qui Partiamo solo dal lower back È già finita la storia Andiamo a vedere i trapezzi Molto bene Ramondi trapezzi Qua devo dire Veramente Può quasi reggere il confronto con papà È quasi Poi però dopo Come andiamo ad aprirci sul grandorsale È un altro pianeta Deltoide Penso sia ancora un altro pianeta Separazione bicipite e tricipite Volume Del tricipite stesso Altro pianeta E addirittura Nonostante l'avambraccio Per quanto riguarda Comunque i flessori del polso No? La parte anteriore Se noi vediamo il bracchio radiale Questo qui dove Chris poi ha il tatuaggio E cavolo è meglio Chris Quindi Secondo me Non c'è nulla Forse 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 Il gemello mediale qui Ramon se lo porta a casa E i capelli? Forse? Ok Sulle pose frontali Ramon è meglio di Chris Così è stato detto da qualcuno Va bene Allora Proviamo magari a non guardare quadricipiti Dai Va bene Allora quindi Secondo qualcuno Gli addominali di Chris Sono peggiori di quelli di Ramon? Io non credo proprio L'apertura del gran dorsale La densità L'ampiezza di queste braccia Come esplode Questo bicipite sinistro Che per carità Per carità Anche quello di Ramon È fantastico Forse 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 Questa Solo perché sono un malato Di polpacci È una posa dove Ramon Può giocarsela con Chris Ma poi Perché anche questa vita Strettissima Che veramente poi Gioca a suo vantaggio Quindi tantissima roba Ramon È una separazione Comunque dei tagli Qui nel quadricipite Cioè qua Vediamo veramente tutto Il retto femorale Il sartorio Il gracile Cioè tutto È bello in vista Per l'amor del cielo Qua anche bene gli adduttori Però vediamo qua La fascia adduttoria di Chris È veramente il papà Con il bambino C'è poi questa separazione Quando parte Il vasto mediale Per me Anche qui C'è poco da confrontare Per quanto riguarda Proprio le wheels I quadricipiti Però Sopra qua devo dire Che Ramon Comunque Sela può giocare Ma per me Vince sempre papà Chris Poi magari sono di parte E poi Chris gli dice Ah tu fai il vacuum Già che lo faccio anch'io Boom E dai E non dico che lo umilia Però Insomma Con questo bel sorrisino Gli fa capire Che papà È sempre papà Però molto molto bene No questa veramente Non lo so Magari sono veramente Troppo di parte Ma posso capire Chi la dà Ramondino Lontanamente Ma lo posso capire Qui poi La favorite classic pose Dove Ramon Ci regala Un bellissimo Tricipite Ragazzi E mamma mia Qui ma veramente Che bello Qua è il deltoide Vediamo come si vedono Proprio tutti i fasci Detto all'anteriore Poi boom Esplode un deltoide Laterale Incredibile Separazione veramente Tra tutti i muscoli Del braccio Che bello Questo è il famoso corno La parte finale Del capo laterale Bellini Non eccezionali Gli obliqui Vabbè qui liscio Ma perché non sta contraendo È molto bello Il petto Cavolo qua Niente da dire Solo vedere Questi tagli La definizione di Chris Sul bicipite La forma del dorso Lui Come dire Lui fa lo standard Lo dice lui Ed è vero Lo sappiamo tutti Che Chris fa lo standard Perché per i prossimi 5-10 anni Il modello di riferimento Sarà Chris Bamstead Non c'è dubbio Su questo Qua come viene fuori Anche il gluteo Da qui È abbastanza impressionante È molto bello Qui Ramon Devo dire Però Dai Come si fa A non darla a Chris Non lo so E beh qui Ramon secondo me Può anche evitare Di farla Perché se la vuole fare Fa solo Che è una brutta figura Come ha fatto l'anno scorso Ecco 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 Qui i dettagli Del gluteo Che dicevamo L'anno scorso Per me ne aveva di più Però forse Ha preso più massa Su tutto l'upper body Eh Mi sa di sì Mi sa che ha preso più massa Per tutto Anche perché le braccia Sono più piene Si vede Poi con il weight cap Più elevato Qua cazzeggiano Tutte e due Ed è comunque Meglio Chris A cazzeggiare E poi un altro round Ecco qua I bicipiti un po' piatti Dei quali parlavamo Specialmente il sinistro No? Dove Chris invece domina Dai domina Bello come si apre Questo quadricipite Ma guarda quell'altro Dai Dai E quindi per me Front double bicep È di Chris Absentive Va bene Lo diamo a Ramon Ok Side chest Di Chris Back double bicep Ovviamente Di Chris Io non so poi Anche qui Cioè Come si fa A dire che Ramon Ha gli addominali Migliori di quelli di Chris Possiamo dire che sono più Forse Ipertrofici Perché sono dei mattoncini Che non vedono l'ora di sparare fuori Da quell'addome Va bene Ma la forma Cioè Questo che cos'è? Che roba è? Questo Questo È qualcosa che uno vuole vedere No? Dai ragazzi Io non lo so Mi sembrati sentire troppi favoritismi Che mi sarei aspettato il contrario Perché in genere Io sento sempre tutti Idolatrare Il buon Chris Ma E quindi Tendo sempre un po' A abbassare le ali Del baffo Dire Vabbè Sì signori Chris È il numero uno Ok Però adesso Non è che ogni cosa che tocca Si trasforma in oro Invece Qui mi sento di doverlo difendere Perché dai Pensare che il titolo Sia in discussione Lo era prima E non lo è assolutamente adesso Eh Dai Che roba è Rispetto a quella di prima Che roba è Cioè Dai Non gli è abbassata L'umiliazione dell'anno scorso Grande avambraccio Ma finisce lì Your favorite classic pose Dai Vogliamo darla a Ramon Comunque vince Chris Comunque vince Chris Basta Dai Io Non parlerei più di questo Mi sembra una vittoria netta Ah Un altro bambino qua Che è nato Dal quadricipito di Chris Dal retto del femore Dai signori Molto bene Ramon È migliorato Senza ombra di dubbio Ha fatto dei passi in avanti Se l'anno prossimo Chris si dovesse ritirare Ok Ci sta che Il new mister Olimpia Sia Ramondino Va bene Ma Non quest'anno E nemmeno l'anno prossimo Nel caso in cui Chris Decida di partecipare Anche l'anno prossimo Punto Andiamo adesso invece A vedere Gli altri compagni di merenda Allora Ricordiamo che qui Urs non sa che cazzo Da fare Eccolo qua Urs E Amici Secondo me Urs Io mi aspettavo molto di più Avevo delle aspettative Molto molto più elevate Perché Le braccia E poi lo vediamo meglio Ma qui Poca roba Le gambe Forse un pochino migliorato Ma Come sempre Instagram è una cosa Il palco è un'altra Perché veramente Su Instagram Aveva delle braccia pazzesche Il dorso sembrava ancora Migliorato Invece è identico Le gambe Sembravano il doppio Invece sono un filo Migliorato Ok Ma troppa poca roba E invece uno Che porca miseria Spacca di brutto E questo qui Perché Brion Hensley Mamma mia Brion Hensley Mamma mia Invece Terence Poverino Beh che bassissimo No Terence è arrivato Un po' liscino Secondo me Va al quinto posto Perché Brion È Pazzesco Non dico che potrebbe Beh oddio Secondo me Se la gioca anche con Urs Giusto che Urs Arrivi terzo Però vedo Quarto Brion E quinto Terence Forse se non viene addirittura Spodestato dai vari Beh non penso Alex Cambronero Però Già magari Michael Daboul Eccolo qua Urs Con Brion Uno a fianco all'altro E vai Allora Quindi Eccolo qua Wesley Non male Non male Però dai Terence Mamma mia Vabbè La vita di Terence Grande Penso come il mio mignolo È pazzesco Pazzesco Però Brion È di un altro pianeta Cioè di un altro pianeta È superiore È superiore Dai Guardiamo le braccia Ma anche il posing Quanto è bello È troppo Bello Brion Però Urs Porca miseria Dice la sua Poi c'è Michael Daboul Mike Sommerfeld Che Vabbè Non male Mike Sommerfeld Anche lui se la può giocare Però forse Michael Daboul meglio Forse Michael Daboul meglio Pensavo un po' meglio Mike Sommerfeld Ma qui È solo una posa Boh Allora E Terence È liscio sotto Qui No È poco definito Vero che Non è Non ha De risoluzione Questo video Chissà dove sta guardando Wesley Vessers Un po' stortino Non è che mi piaccia tanto Questa posa Come la fa Un po' di favoritismi Nei confronti di Brion E la do a Brion Però Però molto bene Urs Guarda i glutei di Urs Mamma mia Si vede già da qui Come sono striate Anche quelli di Brion Ma la schiena di Brion Vediamo Dai Dai Allora Lower body Fantastico di Urs Secondo me Però Brion Gli sta dietro Uh Terence Anche lui è bello Tiratino eh Però Secondo me La schiena di Brion È meglio È meglio Uh Bella anche questa Di Michael Daboul Ampio Anche Wesley Vissers Mamma mia No beh Forse Mike Sommerfeld Forse la schiena migliore di tutti Eh Ragazzi Cioè qua Tra i rettori della colonna Tra pezzi Ma guarda Qual gran dorsale Che giro che fa Mamma mia Complimenti Mike Sommerfeld Però per me è ancora di Brion Porca miseria Forse Uh però qua Urs È È stata una bella schienina Forse era anche Un gioco di luci Luci non bellissime Vediamo qui Eh vabbè ma questa per me È di Brion tutta la vita Però Urs La fa molto bene Grande addome Ecco qua qualche fotina Quindi abbiamo Urs Che vediamo Le braccia Sono quelle lì Il dorso È quello lì Alla forma dell'anno scorso Non mi sembra Avere avuto dei grossi miglioramenti I polpacci di Urs Sono importanti Migliorato sicuramente Un po' il quadricipito E finisce lì Non vedo Grandissimi Improvement Eccolo qua Eccolo qua Papà Brion Mamma mia Che meraviglia 43 Se non erro 43 Infatti le gambe Fa fatica Le gambe Fa fatica A tenerle Per l'amor del cielo Perché qui si vede Proprio la pochezza Nel quadricipito Ma i dettagli Comunque Questa vena Che ce l'ha solo lui Così a effetto A giro Credibile E poi il buon Terence Liscio Secondo me Troppo liscio Troppo liscio Qui Non penso che ce la faccia Terence Nemmeno forse Ad arrivare al quinto posto E allora Sicuramente Complimenti a Ramondino Che ha fatto dei grandi Miglioramenti Ma Secondo me Non c'è ancora storia Con Daddy Papà Chris Che Questa sera Si porterà a casa Il suo quinto titolo Senza Alcun Problema Secondo Ramon Terzo Penso Ursa Anche se Brion Potrebbe farcela E se lo meriterebbe Quindi Terzo Forse Ursa Quarto Forse Brion Vediamo Quinto Non so se ce l'ha fatta Terence a solidificare Quel quinto posto Perché Di altri La schiena di Mike Sommerfeld È impressionante Ci potrebbe essere anche Un Michael Daboul Veramente importante Oggi E magari La sorpresina Wesley Wissers Ma Wesley Non credo Quindi Questa per me La mia Top 5 Un pochino Da rivalutare Rispetto al pronostico Fatto qualche giorno fa Ma Non si spodesta Minimamente Papà Chris Dal suo trono Non si muove Papà Dal trono E allora Anche oggi È troppo Sbatti Lasciare Like Cioè Se non l'hai lasciato Con La categoria open Non è che col classica Più voglia di farti lo sbatti Sta lì a muovere il mouse E cliccare sul like Lascia stare Che è troppo sbatti E se vuoi lavorare in palestra Ma non sai come fare Hai bisogno di una qualifica E vuoi imparare Quelle quattro cose Di cui c'è bisogno Non è vero Perché c'è bisogno di sapere un mondo Fare il personal trainer È difficilissimo Lo dico sempre Comunque Fai il corso con me C'è lo sconto Del 10% Con il codice Simopagno PT10 Per diventare Personal trainer Di primo livello Ma di altissimo livello Perché se fai il corso con me Sarai il numero uno Perché ti rompo le palle Tantissimo E ti boccio Sempre E seguimi poi Anche in Mauritania In Niger Nel Chad E in Sudan Seguimi ovunque Sempre Su Facebook Instagram E TikTok E noi Ci vediamo Penso proprio domani Per vedere I risultati Sia del Classic Physique Che dell'Open Del Mister Olimpia Forza Brion Hensley Sempre Ma forza Andrea Prezzi Io ci credo ancora È duro È duro Ma io ci credo ancora Dai Forza ragazzi Saluti Saluti Ciao 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 Ciao